ragazzi buonasera a tutti e benvenuti nella seconda puntata della rubrica lo sapevate che allora lo sapevate che di oggi è dedicato al dimagrimento localizzato sì perché in palestra nonostante i milioni e miliardi di discorsi fatti sul dimagrimento localizzato sento ancora dire uomini e donne la stessa cosa io vorrei togliere un po la pancetta io un po i fianchi io vorrei soltanto il sedere vorrei alzare i glutei ragazzi il dimagrimento localizzato non esiste esiste un dimagrimento total body dimagrisce tutto il corpo grazie a una corretta alimentazione e un adeguato esercizio fisico inutile correre dietro a milioni di crunch milioni di addominali per chi non conoscesse la parola crunch milioni di squat per rassolare il sedere milioni di addominali per togliere il per togliere la pancia soltanto una corretta alimentazione vi potrà aiutare in più acqua di uvata la palestra per chi se lo fosse perso questo è il secondo appuntamento della rubrica in alto vi metto il link della prima la prima puntata vai chiamiamola così luke vi saluta alla sua solita maniera never give up estate va buona ci vediamo tra poco